... Pediatra minacciata all'ospedale Santo Bono. Un nuovo episodio di violenza nella sanità campana. Medico di turno insultata e minacciata di morte nella notte dai parenti di un malato. Intanto l'AS la manda agli ispettori dopo la scoperta di un insetto nel piatto di un paziente al Pellegrini. Era evaso un mese fa catturato a Pozzuoli. Si nascondeva in una villetta Raed Nikolic, detenuto serbo di 38 anni, fuggito in maniera rocambolesca dalla sua abitazione di Secondigliano durante un permesso premio, con scorta concesso per vedere il figlio. Regionali a Mendola frena su De Luca. Ospite della Fondazione Sud, il ministro per gli affari europei lancia un nuovo appello ai 5 Stelle. In vista delle regionali si mostra scettico sulla candidatura di De Luca. E il governatore finisce anche nel mirino dei Renziani. Killer delle prostitute, condannato a 18 anni. E' quanto deciso dal Tribunale di Salerno per il muratore di Vietri sul mare. Carmine Ferrante è ritenuto colpevole dell'omicidio di una lucciola a 19enne romena, l'uomo padre di tre figlie già in carcere per il delitto di un'altra prostituta uccisa a Pagani. Mobilità sostenibile, la svolta di Benevento. Renderemo la città sempre più accessibile, lo ha assicurato il sindaco Clemente Mastella. Stamane l'inaugurazione del nuovo ascensore, che consentirà alle carrozzine di raggiungere gli uffici comunali nel megaparcheggio di Via Pommerio. Mercato e Terminal Bus, festa e in confusione. La sinistra d'Avellino attacca il sindaco per le ultime decisioni adottate. Troppa improvvisazione, accusa Santoro. Intanto anche oggi niente mercato. Gli ambulanti confermano la protesta per martedì mattina. Buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione. Nuovo episodio di violenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove questa notte una pediatra che svolgeva il proprio turno di 12 ore in reparto è stata insultata e minacciata di morte dai parenti di un paziente. La pagina Facebook, nessuno tocchi ippocrate, segnala invece il caso di un'aggressione verbale agli operatori del 118. La postazione di Chiatamone era stata allertata per intervento alla sanità. Arrivato sul posto, l'equipaggio ha rilevato i parametri vitali, e stabilizzato il paziente, poi lo ha caricato in ambulanza partendo alla volta dello ritomare. L'ambulanza si è fermata nel traffico di una traversa con la sirena accesa. A questo punto quattro ragazzi hanno minacciato l'equipaggio, intimando di spegnere la sirena perché c'era un funerale. Il manager dell'ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva, ha inviato gli ispettori sia al Cardarelli che al Pellegrini, dopo la denuncia del ritrovamento di insetti nel kit di posate. Sotto accusa la ditta che si è aggiudicata all'appalto. Vediamo il servizio. L'ASL di Napoli ha inviato i propri ispettori nel centro di preparazione pasti dell'ospedale Cardarelli. L'ispezione risale alla mattina dello scorso 7 gennaio. L'episodio che probabilmente ha spinto il direttore Verdoliva a inviare i suoi ispettori è stato il ritrovamento di un insetto all'interno di un kit di posate per la prima colazione all'ospedale Pellegrini. Ma l'insetto sarebbe solo l'ultima di una serie di inadempienze del servizio di fornitura del vitto ai pazienti dell'ASL Napoli 1. Sotto la lente degli esperti del Dipartimento di Prevenzione è finita dunque l'azienda che nel marzo dello scorso anno si è aggiudicata tramite gara indetta dalla Soresa il servizio di ristorazione per le strutture che afferiscono all'ASL. Si tratta della Vicentina Serenissima, sul cui operato già da diversi mesi erano giunte lamentele da parte del sindacato CISL. Le segnalazioni riguardano presunti inadempienze rispetto a quanto previsto dal capitolato di gara, l'utilizzo di materiali non biodegradabili e irregolarità nel servizio di distribuzione dei pasti ai pazienti. Secondo quanto dichiarato dal manager Verdoliva, effettivamente l'ispezione del 7 gennaio ha riscontrato alcune irregolarità e alla Serenissima è stata anche elevata una multa perché le derrate alimentari depositate non erano correttamente separate. Nel corso dell'ispezione sono anche stati effettuati prelievi sui cibi freschi per sottoporla a indagini, ma i risultati devono ancora arrivare. La ditta che si è aggiudicata il servizio ha tempo fino a fine gennaio per adeguarsi a tutti gli obblighi previsti dal contratto. In caso contrario, lo stesso potrebbe essere rescisso. Si nascondeva in una villetta di Pozzuoli Rade Nikolic, serbo di 38 anni, evaso in maniera rocambolesca dalla sua abitazione di Secondigliano a Napoli la mattina dello scorso 16 dicembre, durante un permesso premio con scorta, concesso per vedere il figlio. A rintracciarlo sono stati i poliziotti della Mobile di Napoli e gli agenti del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria con il contributo della Polizia Scientifica al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli. Nikolic era recluso nel carcere di Frosinone in quanto ritenuto colpevole di numerosi reati. Il termine della pena infatti era fissato per il 2038. Il Tribunale di Santa Maria Capuavetere ha condannato l'ex sindaco di Casa Pisenna, Fortunato Zagaria, a un anno e mezzo di carcere per il reato di violenza privata con l'aggravante del metodo mafioso commesso ai danni di un altro ex primo cittadino, Gianni Zara. I giudici hanno assolto Zagaria dal reato di concorso esterno in Camorra per una seconda contestazione di violenza privata. Assolti anche il boss dei Casalesi, Michele Zagaria, e l'ex consigliere comunale Luigi Amato. Ospite della Fondazione Sud, il ministro per gli affari europei Enzo Amendola lancia un nuovo appello ai 5 Stelle in vista delle regionali e frena sulla candidatura di De Luca. Il governatore finisce anche nel mirino dei Renziani che a Napoli incassano l'adesione del consigliere sgambati dopo la rottura con De Magistris. Vediamo il servizio. Ospite dell'iniziativa promossa da Sud di Antonio Bassolino, il ministro Enzo Amendola lancia un nuovo appello ai 5 Stelle affinché facciano una scelta di campo alle prossime regionali in Campania e frena sulla ricandidatura di Vincenzo De Luca sottolineando che la decisione spetta al partito. Ma la porta ancora aperta ai 5 Stelle è un segnale che, almeno per Amendola, si proverà fino alla fine a trovare un accordo su nome condiviso. Intanto il ministro ricorda gli impegni del governo per il mezzogiorno mentre l'ex sindaco Antonio Bassolino sottolinea la necessità per Napoli e il Sud di fare sistema. Il Sud è la priorità. Abbiamo stabilito il legge e bilancio del 34% della spesa pubblica deve essere destinata al Sud, la massima attenzione alle crisi innanzitutto quella dell'Ilva e soprattutto rilanciare investimenti per la crescita, investimenti infrastrutturali. Questo governo vuole parlare in maniera concreta delle politiche, senza annunci, perché abbiamo visto in passato che tanti annunci poi si sono rivelati dei bleff. A provare ad intaccare la candidatura di De Luca sono anche i componenti renziani. Al Comune di Napoli l'Assemblea d'Italia Viva con l'adesione del consigliere Carmine Sgambati dopo l'addio al sindaco De Magistris che agita però il campo progressista. Migliore e Rosato sottolineano la necessità di individuare un nome oltre De Luca che abbia più possibilità di vittoria ed hanno criticato anche la nuova legge regionale sull'urbanistica. Intanto l'ex rettore dell'Università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, ha giurato ieri da Ministro dell'Università e della Ricerca la cerimonia al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Con Manfredi anche Lucia Zolina, neoministro dell'istruzione. 18 anni di carcere per il killer delle prostitute. Il Tribunale di Salerno condanna il muratore di Vietri sul Mare, Carmine Ferrante, per l'omicidio di una lucciola, 19enne rumena, l'uomo padre di tre figlie già in carcere per il diritto di un'altra prostituta trovata senza vita a Pagani. Sentiamo. Era stata ritrovata seminuda e senza vita in un campo incolto tra via San Leonardo e via De Carrari a Salerno, il 15 maggio del 2016. Ora l'assassino di Mariana Tudor Zecheres ha finalmente un nome. Per il delitto della giovane prostituta romena, il gruppo di Salerno, Gennaro Mastrangelo, ha condannato il 38enne Carmine Ferrante, muratore di Vietri sul Mare. L'uomo padre di tre figli, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere, nei suoi confronti è stata disposta anche l'interdizione dei pubblici uffici e la sospensione della potestà genitoriale. Ha beneficiato inoltre dello sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato. Ferrante, soprannominato il killer delle prostitute, era già stato condannato a vent'anni di carcere e in appello per aver ucciso un'altra lucciola di origini bulgare, Nicolò Vatemenuzka, trovata morta nell'agosto 2016 nei pressi del cimitero di Pagani. Proprio durante le indagini per questo delitto, la svolta che ha incastrato il muratore venne infatti prelevato il suo DNA, risultato compatibile con quello ricavato dal liquido seminale, ritrovato sul corpo della 19enne, morta a Salerno. Sei persone a giudizio davanti la Corte dei Conti per il fallimento di Bagnoli Futura. Il vice procuratore Marco Catalano ha depositato il 10 dicembre scorso l'atto di citazione. Si attende adesso che venga fissata la data dell'udienza. Tra le persone a giudizio c'è anche il sindaco Luigi De Magistris, per il quale la procura ha chiesto la condanna al pagamento di 55.778 euro. Oltre al primo cittadino partenopeo sono sotto accusa anche l'ex sindaco Rosa Russo Iervolino, gli ex vice sindaci Rocco Papa e Sabatino Sant'Angelo, l'ex assessore Ferdinando Balsamo e l'ex dirigente Giovanni Spagnolo. Secondo la procura c'è stato un uso distorto della società di trasformazione urbana per De Magistris. L'accusa riguarda l'aver distratto i fondi della società Bagnoli Futura per la Coppa America. Un intervento di mobilità sostenibile indispensabile. Proseguiremo in questo percorso per rendere la città sempre più accessibile. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, questa mattina ha inaugurato il nuovo ascensore che consentirà alle carrozzine di raggiungere gli uffici comunali. Sentiamo. Un ascensore che consentirà anche a chi è in carrozzina di raggiungere gli uffici comunali del megaparcheggio collegando Via del Pomerio a Piazzale Iannelli. L'impianto è stato inaugurato questa mattina a Benevento e rappresenta un passo importante per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Un percorso che il sindaco, Clemente Mastella, ha rilanciato annunciando anche altri interventi. Sì, quando siamo arrivati questo non esisteva assolutamente. Oggi invece, questa è l'espressione massima in questo momento, ma anche le piccole cose che abbiamo fatto all'interno della città per quanto riguarda la possibilità delle carrozzine, di poter passare, delle carrozzelli poter passare. Lo vediamo di fare assieme all'Università del Sagno è un giardino diciamo della città, insomma, riosso alla città. Mi parebbe un po' di verde in più, eccetera. Ed è l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello a dettagliare il percorso. Via del Pomerio prolungheremo il marciapiede fino ad arrivare all'ufficio postale creeremo paralleli alla strada nuovi stalli, evidentemente uno per disabili, salveremo quello rosa e ne faremo altri. L'illuminazione del piazzale che stiamo a breve vedrete i lavori che faremo insieme a Trotta per renderlo più efficiente e soprattutto più moderna con una tecnologia moderna. Palazzo Mosti al più presto siamo anche lì proseguendo i lavori per l'ascensore consentiremo al più presto anche al disabile che voglia accedere agli uffici di Palazzo Mosti a poter partecipare l'attività a consigliare di poter accedere e speriamo anche quella discesa che di grada verso Via dei Mulini di renderla agevole. È un sabato senza mercato ad Avellino mentre festa rassicura a martedì si farà a Campetto Santa Rita gli ambulanti proclamano lo sciopero e la sinistra attacca il sindaco si è incartato e entrato in un circolo vizioso sentiamo. Il piazzale degli Irpini si presentava così stamattina occupato soltanto dai bus primo sabato senza mercato ad Avellino qualche temerario tra gli ambulanti di fuori provincia alle prime luci dell'alba ha fatto capolino nella zona dello stadio ma ha trovato la strada sbarrata da polizia e municipale e ha fatto mestamente ritorno a casa mentre il sindaco annuncia che per chi sta rateizzando martedì si farà il mercato a Campetto Santa Rita gli operatori commerciali non si fidano e hanno organizzato uno sciopero per quella stessa giornata intanto su delocalizzazione del terminal bus e sospensione del mercato la sinistra attacca l'amministrazione comunale ho l'impressione che l'amministrazione si sia oggettivamente incartata perché ha preso un pezzetto di verità cioè l'esigenza di spostare i pullman da piazza Kennedy è un discorso antico e lo ha messo dentro un grande imbroglio facendocela passare con una grande verità cioè quella di trasferire allo stadio gli autobus bloccare il mercato aumentare la confusione in città aumentare il traffico e quindi aumentano le multe poi magari si utilizzano i soldi nelle multe per fare le feste e per giustificare quello che si è fatto in queste settimane insomma un circolo vizioso da cui adesso si fa fatica ad uscire alla fine pagano i cittadini più deboli pagano anche i cittadini dell'Interland che sono costretti a rimanere abbandonati nella landa desolata dello stadio senza un servizio senza un supporto senza una navetta di collegamento con i punti nevralgici della città ha chiesto scusa per ciò che ha fatto spiegando di aver agito reagendo ad una provocazione si è difeso così il 44enne di Benevento invalido in carcere con l'accusa di tentato omicidio di una cinquantenne anche la della città in prognosi riservata a rumbo per una lesione all'addome provocata da una coltellata che l'uomo gli aveva sferrato in strada sotto il condominio dove entrambi vivono a Rione Libertà questa mattina l'uomo è comparso davanti al GIP del Tribunale di Benevento che al termine dell'interrogatorio ha confermato gli arresti in carcere per il 44enne dopo la visita del capo della protezione civile Borrelli i territori della Campania colpiti dal maltempo attendono l'ultimazione degli interventi di messa in sicurezza lunedì riapre la statale Amalfitana ma il sindaco di Cetara lancia l'allarme dopo un mese di isolamento la comunità è ancora in ginocchio subito gli interventi di messa in sicurezza perché la situazione è complicata e non si può più prescindere dalla prevenzione abituandosi di fatto a convivere con il rischio le risorse nazionali arriveranno e si aggiungeranno agli 8 milioni già stanziati dalla regione mentre nei prossimi giorni sarà ufficializzato lo stato di emergenza dopo le tappe a Benevento San Martino Valle Caudina in costiera Amalfitana con il vicepresidente Fulvio Bonavitacola il capo della protezione civile Angelo Borrelli assicura l'impegno del governo per i territori colpiti da frane e alluvioni nel comune Caudino sono ancora spollate 40 persone mentre proseguono le attività di messa in sicurezza della parte montana e del torrente tombato Bonavitacola ha assicurato che altre risorse saranno messe a disposizione per Chelsea di Forino a Benevento invece riflettori puntati sui lavori dopo l'alluvione del 2015 mentre sarà sottoscritto un protocollo d'intesa tra comune e protezione civile per tutelare il patrimonio arborio del capoluogo Sannita in costiera invece lunedì riaprirà la statale Amalfitana ma a Cetara si contano i danni materiali ed economici a causa dell'isolamento sono stati giorni drammatici ma soprattutto per Cetara perché noi abbiamo avuto tre frane ma soprattutto due frane importanti da parte alta del paese che ha detto dei tec è stato molto peggio di quando successe a Sarno sono due frane una di da 2,2 km un'altra da 550 metri che ha portato giù non due frane ma due montagne dei danni incalcolabili poi da un punto di vista economico siamo da un mese fuori dal mondo immagini le attività commerciali l'albergo i b&b i ristoranti il bar che con la strada chiusa quindi sono veramente hanno perso un mese le loro attività economiche dell'anno e prosegue la gara di solidarietà per il piccolo Ascanio il bimbo di origini irpine che necessita di un delicato intervento chirurgico si avvicina a quota 30.000 euro ieri raccolti più di 3.000 euro dai commercianti di Mercogliano sentiamo con gli oltre 3.000 euro raccolti dai salvadanai dei commercianti di Mercogliano è stata superata a quota 20.000 e si avvicina all'obiettivo dei 30.000 euro per garantire l'intervento chirurgico al piccolo Ascanio il bimbo di origini mercoglianesi affetto da una grave patologia al cuore che necessita di altre cure al Boston Hospital nei giorni scorsi la clinica Montevergine ha donato 5.000 euro ieri pomeriggio nell'aula consigliare del comune di Mercogliano i volontari della Proloqu insieme ad una rappresentanza dei commercianti i loro salvadanai per contribuire alla raccolta di beneficenza in favore del piccolo guerriero che vive con i genitori ad Alessandria è un piccolo lupo mercoglianese perché il piccolo Ascanio ha sangue mercoglianese quindi quando Mercogliano si unisce intorno ad una problematica diventa un grandissimo paese e come tale sta dando ecco tutto l'aiuto possibile alla famiglia per poter far sì che anche Ascanio possa vivere una vita più tranquilla la risposta già è stata importante per una tombolata che abbiamo fatto qualche giorno fa organizzata un po' da tutte le associazioni che operano sul territorio sicuramente ancora più importante sarà questa risposta dei commercianti la solidarietà fa bene al cuore di chi la fa dico io nel senso che chi fa solidarietà molto spesso anche in silenzio perché a Mercogliano esiste tanta solidarietà la fa anche per riflettere sulla vita su quanto a volte siamo fortunati e lo dimentichiamo quindi è una bella opportunità per tutti noi per capire che i nostri piccoli gesti possono essere molto importanti e determinanti per la vita degli altri a Benevento il mondo delle associazioni si riunisce per lanciare Civico 22 movimento che mira scendere in campo per le prossime elezioni comunali del 2021 questa mattina presentati 12 progetti per una nuova idea della città sentiamo sviluppo economico città sostenibile economia circolare valorizzazione dei fiumi welfare generativo scuole cure dell'infanzia qualità della vita nelle periferie e contrade sono solo alcuni dei temi che Civico 22 nuovo movimento che presto sfocerà in politica e sicuramente a Benevento parteciperà alle prossime elezioni comunali del 2021 ha messo sul tavolo nella sala conferenze del Cesvob il centro del volontariato un'idea di 12 laboratori che alla fine dovranno restituire la città che verrà Civico 22 è questa esperienza che abbiamo proposto per far partecipare attivamente i cittadini alla vita della nostra Benevento il termine di questi laboratori dovrebbe produrre dei documenti delle posizioni dei fogli di carta che insieme messi potrebbero essere una bella bozza di ragionamento sulla città futura e sull'amministrazione in carica e sull'opposizione non sono mancate stoccate l'assenza di dibattito è allarmante se negli anni scorsi anche nel Consiglio Comunale ci si scontrava su idee differenti oggi invece registriamo un arretramento e per questo oggi noi vogliamo ricostruire a partire appunto da un'azione dal basso un livello di confronto cittadino e pubblico con esperti con professionisti con l'entusiasmo dei tanti cittadini che vorranno appunto intraprendere questo cammino collettivamente e quindi arrivare all'estate con delle proposte quindi non solo quindi confronto e dibattito che sia sterile ma anche appunto un confronto che arrivi ad elaborare proposte e quindi a comporre una visione strategica su questo territorio Ariano chiamata le armi nel centrodestra in vista delle prossime elezioni Franza non cambia idea le sue dimissioni sono irrevocabili si andrà al voto e nella notte Corvi in azione manifesti anonimi sulle cantonate della città Gianni Vigoroso si chiude senza colpi di scena la prima settimana di attesa dopo le dimissioni di Enrico Franza il sindaco non cambierà idea ed è già proiettato con la mente alle prossime elezioni nessun accordo il miracolo non avverrà in città si respira già aria di campagna elettorale il partito socialista ha rivolto un invito a sostenere con maggiore forza e determinazione Enrico Franza alle prossime elezioni amministrative verso un nuovo percorso che ancora una volta lo vedrà protagonista di contro il centrodestra oggi chiamerà a raccolta tutte le liste della precedente competizione elettorale una sorta di stati generali e chiamata le armi circolano già le prime indiscrezioni sui probabili candidati a sindaco il più quotato è Giovanni Antonio Puopolo ma ci sono anche tre donne in Lizza intanto stamane sulle cantonate della città sono comparsi questi manifesti anonimi segnale evidente che nella prossima campagna elettorale al veleno non mancheranno neppure i corvi tre manifesti qui in pieno centro avete visto qualcosa certamente erano le otto e un quarto circa e vedo questi tre ragazzi dentro una sitro e nera ha la figlia nel manifesto nella pensilina davanti al campo sportivo nella parte del campo da bocce per cui se le telecamere davanti alla villa comunale funzionano quella sitro e nera è passata da lì poco prima delle otto e un quarto e non si ferma l'azione dei giovani volontari salernitani di voglio un mondo pulito per eliminare il degrado dagli arenili i cittadini tutti insieme per ridare dignità alla spiaggia di Pastena vediamo ripulire le spiagge di Salerno da rifiuti e immondizia continua l'azione dei volontari di voglio un mondo pulito per rendere più vivibile la città in tanti grazie anche al passaparola sui social si sono uniti al lavoro dei giovani per eliminare il degrado dall'arenile di Pastena ci è stato segnalato appunto quello che si può vedere è un disastro ritorno di mareggiate e quindi diciamo abbiamo deciso di ritornare qui anche perché ogni volta facciamo l'evento qua notiamo che è un luogo amato dai salernitani perché oggi si sono uniti tantissime nuove persone e diciamo hanno a cuore questi luoghi siamo contenti della risposta dei ragazzi di Salerno che si sono mostrati veramente tutti presi da questa da questa situazione per me è un atto d'amore verso madre terra cioè la terra è nostra è di tutti e l'abbiamo davvero ridotta in maniera indicibile basta guardare intorno quello che c'è tutto ciò che facciamo alla terra lo facciamo a noi stessi paghiamo e pagheremo con la salute alla fine dei lavori di pulizia sul litorale i volontari hanno trovato il solito triste bottino in maggioranza sicuramente le bottine di plastica flaconi di plastica di detersivo indifferenziata purtroppo tanta perché molte cose non si possono recuperare noi cerchiamo di recuperare il più possibile tutto ciò che le persone non utilizzano viene gettato sulla spiaggia o poi lo porta il mare perché a mare vanno queste cose quindi bisogna avere un po' di attenzione in più questo è il mio pensiero era l'ultima notizia il Tg termina qui grazie di averci seguito la linea Valtigi Sport di attenzione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.